Sicuramente dovrei più giocare di testa, che vi chiede, visto che comunque sono molto abili a chiudere i passi. Io li conosco bene loro, abbiamo giocato in Coppa Italia, quando ero a Portugale abbiamo giocato in Coppa Italia con loro, ho capito più o meno come giocavano loro perché alla fine abbiamo vinto un 4-1. Quanto tempo ha capitato? All'agosto? All'agosto, sì, in Coppa Italia. Sì, sì, ho fatto tre atti e un gol. Quello, anche a parte giocare di testa, farò tanti movimenti, cercherò di prendere palla a terra anche, cercare di girare e cercare di mettere loro in difficoltà. Poi la squadra è carica, speriamo che mi diano questa possibilità di darmi palla a terra anche. C'è anche il calcio che rimuove, perché ricordo che a Martina li tirate. Sì, 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 sì. Quindi in caso di un calcio di rigo che mi potresti tranquillamente assicurare. Sì, sì, sì. Mi ricordo che a Martina li tirati, li tirati anche con molta precisione. Sì, sì. Tu sai che ci siamo rossi. Sì, sì. Visti a Martina tante volte, ricordo bene che lo vavi sempre, ma schermo anche l'appunto giusto. Primo. Senti, il call di domenica scorsa ti ha bloccato, ti ha presentato ufficialmente al pubblico. L'intenzione era quella, l'intenzione è venire giù e dare il massimo del mio contributo al tanto, visto che siamo venuti giù per quello. L'importante era quello, dimostrare al tifoso che sono venuto giù non per fare una vacanza, ma per lavorare bene e aiutare la squadra, il gruppo, la città di Taranto. Che mese la riuscita? Una partita è 11 contro 11. Lo sappiamo, loro sono secondi in classifica. Noi dobbiamo avere più fame di loro perché noi siamo laggiù. Loro sicuramente giocheranno un calcio tranquilli, noi dobbiamo lavorare. Quindi tu che hai giocato giù e no, per due, non è stato un giro. Ti chiedo, per favore, se tu adesso non so, guarda, che avevo una risoluzione, che aveva alcune squadre che si sono cercate, aveva anche la Germana, aveva anche il Seguigno, quest'anno invece hai visto il giro è prettamente pertenzionale, quindi tradizionalista. Che differenza hai tratti in questa stagione e mezza del Giro del Nord, il primo misto che è il fenomeno tradizionale, e ora in quello sud che è il fenomeno tradizionale, dopo che anche il Giro del Milano hai visto un misto. Martina, il primo anno abbiamo giocato solo il giro nel sud. Il primo anno di Martina abbiamo giocato solo il sud. Qua è un calcio più combattivo, più forza, più grinta. Il nord è un calcio un po' più tecnico, la squadra gioca un po' più, sai? Si deve lavorare di più sulla tattica, tutte queste cose, invece al sud si lascia un po' la tattica da parte, si va la grinta, la forza. Stanno i numeri? Guarda, io gioco da tutti e due, perché sono un giocatore tecnico anche io, e giocare in Italia, ho imparato a giocare alla grinta, al contatto fisico, quindi posso adattarmi a tutti e due. Però Martina hai giocato anche un anno con il Giro del Misto, perché se hai fatto il gol a Padova, quindi voglio dire, hai un pochino di... Sì, abbiamo girato tutto, abbiamo giocato sempre al nord, al sud, al misto, abbiamo fatto tutto. Secondo me sarebbe meglio il gioco del misto, perché mette più in evidenza anche le squadre del sud, perché quando ho giocato a Martina che avevano fatto solo il sud, la squadra del nord intanto non conosceva tanto le squadre del sud, poi quando hanno fatto il misto girano un po' di più anche i giocatori e tutto. Allora, questa seconda parte del campionato sta occupando una certa continuità di tuo domenica svolta, perché ha proposto molte volte al video. Questa continuità, questa opportunità che ti sta dando in te, sta fortificando anche dal punto di vista caratteriale, dopo un inizio, questa è l'unico, quindi diciamo che avevamo... Sì, mi dà più fiducia giocare, penso che ho fatto tanti sacrifici, quando sono arrivato a Italia, la prima volta che sono in Italia, ho lavorato tanto per trovare un posto nella squadra titolare, adesso devo continuare così, niente, mi dà più fiducia giocare, non abbiamo dimostrato la partita, niente. Senti, la posizione in cui ti utilizza tu in casa, ti piace, dove pensa? Mi piace più andare avanti, ma io, il posto mio è centrale, è difensore, ma si può scegliere di là, posso andare avanti, che mi piace, posso calciare a porta, posso fare un'altra cosa che è meglio per me, se senti meglio per fare male all'altra squadra. Senti, domani avrai le fronte, gente del caldo di pianeta, molti giocatori, hai delle montomissure particolari? No, penso che tutti i concertatori, per me sono tutti nuovi, sono tutti forti, qua in Italia, io devo lavorare come sempre, sono tutti nuovi, non conosco nessuno, niente, come lo faccio sempre,